E' dedicata a Bagnoli la seduta odierna di Consiglio Comunale riunita nell'Aula di Via Verdi e l'occasione per il commissario straordinario e sindaco di Napoli Ghetano Manfredi per informare sullo stato della bonifica nell'ex areate al Sider dopo la costituzione della struttura commissariale e la risoluzione di contenziosi che hanno permesso lo sblocco di terreni precedentemente inutilizzabili. Abbiamo messo le basi per una realizzazione della bonifica di Bagnoli perché in meno di due anni dell'attività della struttura commissariale abbiamo risolto completamente il contenzioso persistente sui suoli e avviato le bonifiche e entro questo primo semestre del 2024 una parte già sono stati consegnati i cantieri alle aziende di bonifica, altri verranno consegnati nelle prossime settimane. Partono le infrastrutture, la prima è l'infrastruttura elettrica, chiaramente adesso c'è il tema del finanziamento per le bonifiche a mare, il completamento delle altre infrastrutture stradali, trauliche e fognari. Per la bonifica a mare a Bagnoli i progetti ci sono e prevedono la rimozione della colmata riferito il sindaco Manfredi vanno reperite le risorse, circa 650 milioni di euro per i quali è necessario l'intervento del governo e che saranno oggetto della prossima cabina di regia con il ministro per il sud Raffaele Fitto. Il progetto che è stato fatto è un progetto che prevede la rimozione completa della colmata e i tempi poi per la realizzazione, che oggi sono previsti tempi molto, diciamo 4 anni per il completamento di tutta la bonifica a mare, però con questo trasferimento a tappe forzate del materiale. Le fondi di finanziamento debbano essere delle leggi nazionali, le risorse del Fondo Sviluppo e Coesioni, i fondi europei e le solite fonti di finanziamento, quindi questo ovviamente è competenza del ministero. Tra i temi affrontati è anche i piani per Borgo Coroglio e l'inserimento di clausole sociali per favorire l'impiego di personale locale nei prossimi bandi. Dobbiamo continuare su questa strada dando la possibilità di portare il monitoraggio popolare all'interno della fabbrica dell'Exit al Sider. Per farlo la risposta sono le clausole sociali, dare lavoro agli abitanti, ai cittadini, ai disoccupati del territorio, ai giovani del territorio affinché bonificando quell'area oggi e domani lavorandoci all'interno possano seguire tutti i processi di bonifica e i futuri processi di gestione di quello che ci sarà dopo. Bisogna innanzitutto di accendere i riflettori sulle risorse che in questo momento sono utilizzate per imbandi in corso, ma soprattutto avanzare una mobilitazione generale per chiedere a questo governo le risorse necessarie per garantire quello che il territorio chiede da tempo. Quindi bonifica, mare, parco urbano, spiaggia pubblica, attività produttive, clausole sociali e lavoro per risarcire socialmente e economicamente questo territorio. Con meno di due anni abbiamo lavorato su cose concrete perché non è il tempo delle parole, è il tempo di fare le cose. Quindi l'apertura dei cantieri, la ripresa di tutte le bonifiche, la sistemazione del parco e lo sport sono segnali concreti.